Mi avevano detto che stavo facendo la scelta giusta. Che avrei cambiato vita, fatto quello che tante persone sognano da sempre di fare. Mi avevano detto che avrei avuto un orto, che avrei potuto farmi il vino da sola. Mi avevano detto che sarebbe stato bellissimo. Mi avevano detto che avrei mangiato sano e biologico tutti i giorni. Mi avevano detto che sono un tipo coraggioso, che mica tutti ce la fanno a vivere da soli in campagna, senza discoteche, senza negozi, senza la tv, senza internet. Ma che io ce l'avrei fatta perché sono una tosta. Mi avevano detto che avrei vissuto sostenibile. Ma cos'è davvero sostenibile? Mi avevano detto che mi sarebbero venuti a trovare. Mi avevano detto che poi in campagna ci sono delle feste meravigliose. E poi gli uomini. Mi avevano detto che questa storia della decrescita felice è l'ultima tendenza. Ma io... mica la vedo tutta sta felicità. E poi decrescita... Ma che è? Io al massimo la ricrescita. Mi avevano detto un sacco di cose sulla campagna. Lasciate ora che venne di campaglio io. Ma è fottuta campagna o lo dice? Fottuta campagna. No. Lo scriviamo poi. Lo scriviamo. Nei credit. Grazie a tutti.